Iniziamo con il mese di agosto, questo è il quaderno illustrato da Anna Maria Mattoni. Allora, primo agosto, quando lo sguardo è distratto i rumori dolci si perdono nel chiasso, un'idea può eluderlo, le parole intanto aspettano, uno sguardo distratto, indica un pensiero distratto, i momenti dolci si perdono nel chiasso, si perdono perché non c'è un'attenzione, perché il rumore dolce va isolato dal chiasso. In questo senso allora è l'idea che può eludere il chiasso, lo può eludere perché fa vuoto attorno al dolce, all'umore dolce. E quando è in atto appunto questo contemplare, questo farsi proprio, farsi proprio qualcosa attraverso, attraverso un'idea, quando è in atto ciò, allora l'espressione delle parole non possono essere agite. Quando è in atto la contemplazione, serve il silenzio e nient'altro.